bella a tutti raga ho fatto una figura di merda io ho ottengo un amico un amico di nome alessandro lui si chiama alessio quindi mi sono imbrogliato guardate chi ho scritto aspettate alessio ecco lui ho detto ciao mattia pensavo che era mia amica alessandro che viene a scuola con me poi ciao lo sai che ho aperto un canale come si chiama bro come si chiama si chiama mattia e ho fatto 5 video e 2 con pappalardo comunque non da scegliere ma chi è pappalardo io ho detto come chi è pappalardo ho detto ma questo non è l'essandro scusa ma scusa ma ok ma chi è pappalardo aspetta un amico che è questo questo tutto questo però ho fatto una figura di merda lui guardate aspettate a pronto io pensavo dare offline perché prima lo vedevo offline che erano andate a cercare il mio canale non lo so che figura di merda no ma questo è un mitico però non è un mitico quello è bravo no scusa della gamma ma tutte queste cose bravi stars avrò anche fibra ma internet buono sono buono però non tanto così tanto guardate sono debba ma anche la gamma- nuts la gamma la gamma come come siamo morti tutta 2 come con qualcosa luffo tra poco mi pare che stia la gamma e mi spi e no vado un po lento no perché muori prendiamoci le quattro gemme prendiamoci dobbiamo sperare che stai facendo dobbiamo recuperare mamma mia prendi 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 no minchia oh no 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 mi dico mi dico mi dico ammazziamolo ammazziamolo bene perfetto no 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 andiamocelo bene siamo qui no dove vai dove vai bene se vengono vicino salmiamo partita con cui che è stato il migliore alessio che non lo conosco ma che figlio di merda dai pronto scrivono vedete bene ovviamente perché la mia ma io mi trovo meglio qua la vita vuole capite buon amici oh no non la fa 6 ore fa 2 ore fa non la fa 10 ore fa mmm 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 mmm.. giusto è consigliato io che sto sempre lo sapete chiedere non fa mai male perché guardate quanti amici ooooh da 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 connessi ho v Paula 50 amici questo 15 giorni fa se lo fai in minuto 30 lo fai ma dai rimuvi rimuvi ma 30 fa con questa figura di merda aspetta io non so che devo dire perché questa figura di merda allora forse lui è andato a cliccare il mio canale forse il primo iscritto chi lo sa potessi essere tu quello che mi stai guardando il prossimo primo iscritto ricordate il primo iscritto lo saluterò lo saluterò sul mio canale lo saluto ogni giorno se arriverò a 1100 iscritti il primo canale iscritto lo saluterò ogni 10 iscritti di come se lo salutassi sempre capito il primo canale io questo è il primo canale io voglio farlo fino alla fine non lo abbandonerò mai perché io non voglio abbandonare voi io non voglio che buono che stai facendo? sto giocando e tu per giocato non è venuto un momento che non ti sa anche mai giocato? no no? hai spettacato l'avevo nella rotta? sì sei essa era mio nonno che stronzo no porco no ricordate lei è cattivissima ma io non so ancora che ho fatto il canale perché sai lei un lei non vuole non so perché ma lei non se ne deve carimi e intanto non ho fatto un collo dunque ricordate ai prossimi 5 iscritti farò un tutorial di come fare youtube sul telefono ed è non è poco è tanto o no comunque stare insieme dai stare insieme io ricordate ogni settimana farò 6 video o no quando ne va perché ricordate 6 o 7 ricordate 6 o 7 sono tanti neanche un youtube o no Matteo ci soffra la colla no Mattia lui vuole ce la farà mentre lui lui distrae lui distrae no no ma 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 tu perché non te ne vai no perché io l'ho passata perché stavo sporando ovviamente beh no 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 Mattia difende Mattia difende Mattia difende no abbiamo perso comunque ricordate 5 scritti che ne dite una partita singola ultima e basta cosa lo sapete è un trucco io spero che sia così questo trucco che voi più video fate perché se io faccio mille video ovviamente su questo gioco ovviamente molti lo vedranno no perché comunque se io faccio colt tenetevi oh no lo partiamo benissimo no no non mi ha colpito no ma che quella non è un shot fa tanti tanti si shotava grazie oh no sta venendo una vita ho capito che vuoi fare da via anche quest'altro mi è mancata frate oh no oh no mamma mia perché sembra me qualcosa cambia bene nel centro oh ecco un nemico prima mi stalkerava no no adios bom dove sei bom mezzeritti bom chiamerò comandante di mezzeritti oh dai se muori se muori mamma mia mamma mia davvero andare oh no 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 non 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 sono meglio andarsene ma perché a me voglio chiamare un secondo aiuto 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 niente ma mi seguono come i cani i metri lì bene credo per questo video sia tutto e ci vediamo sempre e solo qui su Mattia a